Dopo il pareggio di Brescia la Juventus ospita una Roma in salute reduce da tre vittorie consecutive. Partono forti i bianconeri subito al secondo minuto, Quagliarella ci prova il suo sinistro però termina alto. Cinque minuti più tardi e Quagliarella in versione rifinitore lancia Iaquinta che scatta in posizione regolare. Gli si fa incontro Giulio Sergio che è bravo a mandare il pallone in calcio d'angolo. La Roma si vede qualche minuto più tardi, siamo al minuto numero undici quando Menezzo prova a sfondare centralmente. Poi è larga Beravucinic, pallone che torna alla francese che mira all'angolo alla sinistra di Storari. Vola Storari, pallone in calcio d'angolo, primo squillo giallorosso ma gioca meglio la Juventus al ventitresimo. Aquilani prova un cross con il destro, pallone sfiorato da Quagliarella e Iaquinta non ci arriva. Juventus vicina alla gol, ancora dalla parte destra sfonda facilmente la Juventus. Pallone che arriva Pepe, mette nel mezzo, devia Giulio Sergio, poi Felipe Melo prova il tiro di controbalzo. Pallone che si impenna, che finisce sul fondo. La Juventus trova il gol al trentacinquesimo, fa tutto Aquilani, tunnel suo avversario. Pallone nel mezzo, palla per Iaquinta, girata stupenda, quarto gol a stagionale dell'attaccante. Juventino esplode il pubblico bianco e nero. Juventus in vantaggio, un vantaggio meritato. Grande azione di Aquilani, bellissima la girata di Iaquinta che fa secco Giulio Sergio. Ci prova la Roma a scuotersi e al 46esimo trova un calcio di rigore per l'intervento di Pepe in barriera con un braccio alzato. Molte le proteste sembra esserci il tocco di Pepe. Con il braccio va Francesco Totti sul punto di battuta. 1-1, tutto da rifare per la Juventus. Applaude Ranieri, festeggia Francesco Totti. Non può nulla storare sulla destra del capitano giallorosso. Con le immagini andiamo nella ripresa. Parte forte la Roma, il pallone da Totti. Permenez, cross insidioso, libera la difesa juventina con qualche difficoltà. Poi si fa vedere di nuovo la squadra di Del Neri che sprona i suoi. Con Pepe che innesca Marchisu che tenta un pallonetto su Giulio Sergio. Pallone che finisce sul fondo. Ancora Pepe, ancora dalla fascia di destra che prova a scatenarsi. Punta Burdisso, poi il pallone per Quagliarella. Bravissimo in questo caso Menetz. Anzi scusate Mexes a dire di no all'attaccante della Juventus. Juventus che sfonda ancora su quella fascia. Ancora con Pepe che questa volta salcentra. Prova il sinistro. Pallone che si impenna, pallone che finisce sulla pista d'atletica. Minuto numero 81, sfonda anche Felipe Melo che fa fuori Simplicio. si libera di un avversario. Pallone dietro per Aquilani. Destro al volo. Bravissimo Burdisso con Giulio Sergio che sembrava battuto sulla destra dell'ex giocatore della Roma. L'ultima occasione per la Juventus. Arriva all'86esimo. Una specialità della casa di Quagliarella che ci prova il volo con il destro. Ci mette i pugni Giulio Sergio. A Torino termina 1-1. La Juventus tiene dietro la Roma. Che rimane ad un punto dei bianconeri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.